Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Mobile Phone Island. Xiaomi Mi A2, successore del rinomato Xiaomi Mi A1. Sempre Android One, novità hardware molto interessante e prezzo sempre contenuto. Vediamolo dopo la intro. Partiamo dall'unboxing, solita confezione Xiaomi, quindi caricatore 5V 2A, un cavo dati USB a Type-C, una cover in plastica opaca, il pin per aprire il carellino e vari manualetti per le istruzioni. Buona la qualità costruttiva, infatti abbiamo il retro in metallo con gli angoli arrotondati, mentre il davanti è in vetro. È un telefono grande, è un 5,99 pollici, però comunque devo dire che è un po' scivoloso ma in generale si usa bene. C'è anche la modalità ad uso con una mano che aiuta, invece come design non è affatto originale perché infatti abbiamo un design che riprende in tutto e per tutto il Redmi Note 5 che era uscito qualche mese prima di questo Mi A2. Poi c'è sempre la fotocamera a semaforo che sporge anche di più rispetto al Note 5, ma spero di questo ne parleremo in un altro video perché ho fatto il confronto tra due telefoni. Lato destro è il bilanzario del volume e tasto accensione e spegnimento. Su quello sinistro cercare il lino ibrido che può ospitare due nano sim o una nano sim più una micro sd, mentre sul lato superiore c'è il microfono e il sensore per comandare set off box. Sul bordo inferiore c'è uno speaker, poi abbiamo anche la portata IPC e un microfono. Frontalmente c'è ovviamente il display 5,99 pollici con capsula auricolare, led di notifica bianco, fotocamera frontale 20 megapixel f2.2, sensori di luminosità e di prossimità. Mentre su elettro c'è la fotocamera a semaforo con due sensori, entrambi da f1.75 per 1.20 e 1.12 megapixel. C'è anche il flash led e anche un lettore d'impronte che è veloce e molto preciso. Vediamo le specifiche tecniche. Display 5,99 pollici, PS Full HD+, 18 noni. Processore Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core con Adreno 512. RAM 4 o 6 giga, memoria interna 32 o 64 o 128 espandibili. Io sto provando il modello 432. Fotocamera 12 megapixel più una 20 megapixel per la scarsa luminosità. Entrambe f1.75 e abbiamo anche il flash led. Fotocamera anteriore 20 megapixel f2.2, connettività 4G non plus, wifi, dual band, bluetooth 5 e dual sim. Sensori luminosità, prossimità, giroscopio, bussola. Android 8.1 Oreo in versione Android One, batteria 3.010 mAh. Per quanto riguarda il display è un pannello da 5,99 pollici e un IPS Full HD+, 18 noni. È un bel display comunque, ha buoni colori, la luminosità comunque va bene, l'automatismo fa il suo lavoro, buoni angoli di visione, c'è anche la modalità ad una mano. I colori sono ben tarati, purtroppo non possono essere personalizzati dalle impostazioni e anche la luminosità sotto il sole comunque va bene. Per quanto riguarda invece la parte telefonica e connettività abbiamo il 4G, purtroppo non il plus, c'è il dual sim, dual standby. Purtroppo il carellino è ibrido, quindi dovete rinunciare all'espansione di memoria, ma comunque ne abbiamo comunque abbastanza. Già 32 comunque penso che per me sono il minimo, comunque ci sto quasi. Comunque vediamo poi dopo gli altri tagli di memoria i quali vi consiglio. Poi la ricezione comunque è buona, nessun tipo di problema. Anche l'audio in chiamata, sia da altoparlante che da capsula, il volume è alto e ci sentono bene, noi sentiamo altrettanto bene. Bluetooth 5.0 funziona bene, abbiamo il Wi-Fi dual band che è veloce, purtroppo manca l'NFC, mentre il GPS comunque funziona bene senza nessun tipo di problema. C'è anche la Type-C che è apprezzabile in questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda la software abbiamo Android 8.1 con le patch di settembre. Quindi abbiamo un sistema operativo stock, un'esperienza Google completa, pura, con l'aggiornamento del produttore, però dovrebbero essere più veloci. Infatti questo Mi A2 potrebbe ricevere Pi già entro fine anno, secondo le stime, un po' come era successo per il Mi A1. Quindi questo è un grande vantaggio, anche perché garantisce le facce di sicurezza per 18 mesi, che in questa fascia di prezzo è raro trovare altrimenti. Comunque, quindi esperienza Android stock completa, quindi solito launcher, pagina Google Now a sinistra, Drover che si apre con uno swipe dal basso verso l'alto, poi widget, sfondi, classici toggle, poche impostazioni ma necessarie, comunque c'è tutto quello che serve per un'esperienza completa. Poi Xiaomi aggiunge Mi Drop per inviare file, un file manager, l'applicazione per usare il sensore a infrarossi per controllare TV e altri set off box. Poi abbiamo anche la possibilità di inserire il mio account e anche delle impostazioni per inviare dati diagnostici all'azienda in modo da poter migliorare l'esperienza di utilizzo del telefono. Poi comunque la tastiera è la keyboard con cui scrive bene, è comunque un software semplice e completo che potete personalizzare tramite l'installazione di launcher, tastiere, insomma, sapete Android è personalizzabile. Qua il produttore inserisce l'essenziale, poi sarà l'utente a personalizzarlo come preferisce. Purtroppo segnalo che al momento c'è poco modding, ma comunque se prende esempio dal Mi A1 dovrebbe recuperare velocemente e avere un sacco di supporto con tante ROM. Passiamo alle prestazioni Snapdragon 660 Octa-Core, nel mio caso con 4GB di RAM. Comunque devo dire che è molto veloce, siamo appena sotto un 835-845 ma comunque nell'uso quotidiano non ha nessun tipo di problema. L'apertura dell'app non è fulmina come un 845 però comunque è molto rapida, una volta aperte sono molto godibili, il multitasking viene gestito benissimo, nel gaming non ci sono nessun tipo di problema però segnalo che una volta ho dovuto riavviare il telefono perché si era impallato e una volta si era avviato da solo per qualche bagno. Però stiamo comunque alla prima versione software quindi sicuramente potrà essere migliorato con aggiornamenti. Comunque il telefono è molto affidabile, non ha nessun tipo di problema particolare. Per quanto riguarda la fotocamera abbiamo l'applicazione della MIUI, questo non ve l'ho detto, comunque ve lo dico adesso. Sì è ispirato ad iOS però comunque funziona bene, c'è la modalità ritratto, c'è la modalità panorama, c'è l'intelligenza artificiale, le varie scene, i video arrivano fino al 4K e gli scatti sono molto rapidi. Parliamo proprio di questi scatti che con tanta luce devo dire sono ben definiti, colori reali e comunque vengono davvero molto bene, tra i migliori per la fascia di prezzo intorno ai 200€. Invece quando cala la luminosità i risultati sono comunque di alto livello per la fascia di prezzo sempre intorno ai 200€ e quindi comunque i risultati sono godibili. Io alla presentazione dei nuovi Galaxy ho sottomolto questo telefono, ho fatto varie foto e c'era una luminosità particolare, una luminosità da presentazioni con vari led e comunque devo dire che gli scatti che ho pubblicato su Instagram erano comunque godibili. Poi sì, in questo caso non è da paragonare a un top di gamma, per la fascia di prezzo non ne ha fatto niente male. L'effetto bokeh è il classico che ci ha abituato il produttore cinese e devo dire che comunque viene bene. I video arrivano fino al 4K però attenzione che utilizzando la risoluzione massima 4K non c'è la stabilizzazione digitale, cosa che invece c'è nei video in full HD. Quindi comunque la qualità in entrambi i casi è molto buona, buona zoom, buona messa a fuoco, insomma non ci sono problemi. Invece devo dire che con il 4K risoluzione nativa ovviamente i video sono abbastanza mossi, quindi diciamo che in questo caso si poteva fare di meglio. I selfie comunque 20 megapixel, devo dire che vengono molto bene, non ci sono grossi problemi. Invece per quanto riguarda la qualità audio multimediale, il volume è alto e si sente molto bene, sono comunque bilanciato. Purtroppo assente la radio FM ma soprattutto il gioco per le cuffie. Avrei preferito avvelo perché è comodo e lo spazio ci sarebbe per inserirlo, peccato perché a me fa sempre comodo quando è presente. Per quanto riguarda l'autonomia, secondo me è il vero tallone d'achille di questo smartphone, almeno per il mio utilizzo. E' una 3100mAh, quindi siamo comunque in linea con molto telefono, con uso molto intenso, arriva appena alle 16.17 di solito. Quindi ha autonomia che non mi consente di terminare la giornata in tranquillità. Le ore di schermo sono 4-4 ore e mezza, quindi comunque devo dire che non sono poche. Poi se fate un uso più leggero comunque non è da escludere che a sera ci arriverete. Magari le ore di schermo sono sempre 4-4 ore e mezza, perché comunque anch'io un giorno ce l'ho fatta ad arrivare verso le 20 con sempre 4 ore e mezzo di schermo. Poi c'è la ricarica rapida, molto comodo poi avere la Type-C. Poi una volta mi è capitato anche di usare molto poco il telefono, sono arrivato a mezzanotte col 40%, ma sono utilizzi molto particolari che non è detto che magari se fate quel tipo di utilizzo andate a vedere un telefono di questo prezzo. Magari potete spendere un po' di meno se avete un utilizzo più blando del telefono. Per quanto riguarda i prezzi, il listino partiva da 279€ fino ad arrivare a 350€ per il modello con 128GB. Mentre i prezzi su Amazon sono decisamente più interessanti perché con 180 circa troviamo il modello 432, arrivando a 200 si trova invece il 464 che è quello che vi consiglio perché è il più equilibrato. Mentre se volete proprio avere il massimo disponibile c'è il 628 che su Amazon costa intorno ai 250€. L'ho visto anche su Gearbest però prezzi molto simili, poi non ci sono tutti i tagli di memoria quindi alla fine andate su Amazon che in due giorni magari vi arriva se non uno se avete Prime. Passiamo alle conclusioni. Mi è piaciuto molto questo Xiaomi A2 perché è un telefono comunque che è molto prestante, ha una fotocamera molto buona, un buon display. Il software Android One invece va a gusti, io preferisco le interfacce personalizzate ma comunque devo dire che è tutto ben ottimizzato ed è un software comunque piacevole che se siete amanti di Android One, Android Stock sarà sicuramente di vostro gradimento. Peccato per l'autonomia che almeno per il mio utilizzo non mi soddisfa pienamente perché infatti a sera non mi porta. Però comunque se avete un utilizzo più blando questo telefono a sera vi porta e comunque 4 ore e mezzo di schermo sono comunque più che sufficienti per una 3100 mAh. Vi ringrazio Xiaomi Italia per il sample come sempre. Trovate in descrizione il link per l'acquisto, la recensione iscritta, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commenti aperti per vari dubbi e noi ci vediamo alla prossima sempre qua su mobile phone andando ciao!